Ups a tutti, miei cari upsini e upsine, come state? Guardate, spero molto molto bene, oggi sono qui solo per voi, per fare questo nuovo video qua nel letto, quindi, senza dire altro, indossate un paio di cuffie o auricolari, stendetevi sul vostro letto e cercate di dormire, va bene? Allora, io comincio con questo video. Allora, come sempre, i video questi, fatti così, sono spontanei, del tutto non programmati, quindi, spero esca bene, stare così nel letto però ti viene veramente sonno. Quindi, cominciamo facendo qualcosa. Comincio col dirvi che, non so se avete notato, ma se io mi metto così, più vicino alla telecamera, ho un riflesso arancione attosto, questo perché ho posizionato qua davanti a me i led colorati, infatti, come avete visto, e spero sia venuto bene, ho cambiato un attimino i led e i colori sul mio viso sono cambiati, però per adesso lascio questo arancione neutro, così non fa troppa interferenza e difetto. È molto simile allo stesso colore che io ho qua, oggi, il giallo delle luci, in pratica. Quindi, nel video di oggi, avrei dovuto rispondere a un po' di domande, quindi, facciamolo. Ho qua il mio telefono, se vi interessano, sono le tre e tredici. C'è stato un caos stanotte, tipo due ore fa, da quel che ho capito nel mio palazzo. Qualcuno è rimasto chiuso nell'ascensore. Non so cos'è successo, c'era un casino per le scale, pure il mio cane sentiva qualcosa e abbagliava, quindi, vabbè. Allora, li tengo lontani perché mi sembra facciano interferenza. Allora, sto andando un attimino a vedere perché non so se avete visto, ma ho fatto questa domanda, quindi, di farmi delle domande, Stavo un attimino andando a vedere chi mi avesse risposto. Allora, dai, cominciamo un po' così. Su Instagram qualcuno ha risposto. Allora, abbiamo un primo commento che mi chiede quale sia la mia passione. Penso un po' un po' in generale. Allora, allora, una mia passione è sicuramente YouTube, perché uso davvero tanto tempo per YouTube. Mi impegno, magari voi non lo percepite, ma mi impegno veramente tanto per la realizzazione e il montaggio dei video. Quindi, una mia grande passione è sicuramente YouTube. Poi mi piace tanto anche leggere. Leggo veramente tanti libri. E guardare serie tv, guardare film. Quindi penso siano queste le mie passioni. Prossimo messaggio. Al momento, sei innamorato di qualcuno che conosci dal vivo? Al momento no, non sono rinomorato di nessuno che conosco dal vivo. Ma anche di nessuno che conosco online. Perciò... Perciò, 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 perciò... Ci sono solo io e io. Ok, allora... Ma cos'è questo suono che fa difetto, mamma mia? Un'altra domanda che l'ho dovuta un attimino tradurre un po' è... Cosa ti piacerebbe sentire più spesso? E adesso dobbiamo un attimino intenderla questa domanda. Perché sentire più spesso dove? Perché sentire più spesso come musica in generale... A me piace il K-pop, quindi io ascolto K-pop. Però, se parliamo nell'ambito dell'ASMR... Quindi, cosa mi piace ascoltare più spesso? Nel senso di cosa mi rilassa di più? Cioè, quali video preferisco guardare al posto di un altro, per esempio? Io preferisco i suoni, diciamo, rispetto alla voce parlata. Forse è per questo che faccio tanti video di suoni, magari pochi, dove parlo. Perché non lo so. A me io preferisco sentire i suoni. Quindi, così, 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 così. Un altro messaggio. Un altro messaggio. Cos'è la cosa che ti ispira a fare tutti questi video? Ogni tema, passione che metti? Bellissima domanda questa. Allora, una cosa mi ispira. Sicuramente la mia passione, anche perché se non avessi la passione per l'ASMR, diciamo così, non farei dei video, perché non mi divertirei, diciamo. Io invece mi diverto a registrare, ad editare un pochino meno, però a registrare mi diverto. Anche se devo svegliarmi alle tre di notte. Però va bene. Facciamo finta di nulla, dai. E poi mi ispira a voler andare avanti anche tutti i commenti che ricevo di apprezzamento dalle persone a cui piacciono i miei video. Perciò, cosa importantissima, importantissima, ma non solo sul mio canale, anche su quel degli altri, dopo aver visto un video, cercate sempre di commentarlo, di scrivere un commento, anche corto, per far capire che vi è piaciuto. Perché al creator i commenti sono davvero importanti. Perciò, questo è. Facciamo un po' più di spazio. Allora, adesso sono andato a vedere nei commenti di YouTube perché avevo trovato delle domande. Allora, abbiamo all'inizio queste domande qua. Allora, ti piace leggere? Se sì, quali libri hai preferito? Allora, sì, mi piace leggere, come ho detto prima. E come libri. Attualmente, allora, sto leggendo il sesto di Harry Potter, sono un poco dopo la metà, perché non l'avevo ancora letto. Mi mancavano sei e sette, quindi sto leggendo il sesto. Io ho qua dietro, ho qua dietro, i miei libri, quelli che diciamo che ho comprato io, perché volevo leggere io appunto. E ne ho uno di Stephen King, poi ne ho qualcuno, non so come spiegarvi, ne ho tanti. Dai libri di Elite, ho preso anche i libri della serie Elite. Allora, diciamo che il filo conduttore di un po' tutti i libri che ho io è l'amore. Sì, secondo me sì, un po' il filo conduttore di tutto è l'amore. Quindi sono quasi tutte storie d'amore e omicidi, perché, sì, proprio come la serie Elite. Alla fin dei conti, quello è... Cantanti barra artisti preferiti. Allora, in che ambito? Ah beh, cantanti, quello è... Allora, mi si è tolto il commento. Cantanti... Cantanti preferiti. Allora, io prediligo appunto il K-pop che è cantato da dei gruppi quali Blackpink, Itzy e io ascolto sti due, diciamo, quasi sempre. Però cantanti singoli mi piace molto Dua Lipa, mi piace molto Ariana Grande, Lady Gaga, Eva, Max, Katie Perry pure. Quindi questi qua. Invece artisti non saprei cosa dire. Hai già un'idea sul futuro? Vuoi fare l'università? Sì, voglio fare l'università. Voglio andare a studiare giurisprudenza. Hai una meta solita in cui vai in vacanza? Sì. Mi metto un po' più vicino. Ho una meta solita. Perché di solito in vacanza andiamo dai parenti di mia mamma che stanno nel sud Italia. Io vivo nel nord e andiamo a trovarle. Quindi stiamo lì di solito tre settimane. Ci facciamo un po' la vacanza, diciamo. Poi, andrai al Pride di Torino quest'anno? Non lo so. Mi piacerebbe tantissimo andarci. Solo che bisogna però vedere se la situazione generale lo permette. E può però mai dire mai. Sarebbe, secondo me, una cosa veramente carina andarci. Quindi questo. Ok, allora. Queste, 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 queste. Erano tutte le domande che mi sono state fatte. La prossima volta magari mi sveglio un po' prima e non metto il post la mattina per registrare il video la sera. Perché attualmente sono, vabbè, le tre e mezza saranno di domenica 17 aprile. Mi sembra di sì, di domenica 17 aprile. E io ho messo il post con le domande sia su Instagram che su YouTube verso le 10 del mattino di ieri. Quindi, vabbè, magari l'avrei dovuto mettere un pochino prima. Ma non importa. Siamo comunque felici. Comunque sì, sono nel mio pigiama corto. Infatti, la mia condizione di capelli sarà orribile. Io ogni volta ci metto un po' di tempo a sistemarle. Ma questo è, questo è, questo è, questo. Chi l'avrebbe detto? Io sto registrando da già 20 minuti. Già da 20 minuti. Ma non vi capita mai di scambiare le parole, mamma mia? Io quando registro inverto sempre le parole. E niente. Che poi prima ho fatto un caos con la sveglia perché non la trovavo. Quella suonava, io ce l'avevo sotto di me. Figurati. E niente, dai. Io penso, 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 si ha aggiunto, aggiunto, il momento della buonanotte. 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 Quindi, cucù, cucù. Adesso, tocca a voi. Tocca a voi, tocca a voi. Iscrivetevi al canale. Se siete nuovi, cliccando sul tasto rosso che dice iscriviti. Per iniziare a far parte della OOPS community. Un po' difficile da fare straiati col microfono in mano. Lasciate un bel like e un bel commento se questo video vi è piaciuto, se vi è piaciuto, se vi è piaciuto. Per supportarmi e farmi sapere cosa ne pensate. Il video di oggi, purtroppo, finisce qui. Ma se tu, 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 vuoi restare ancora insieme a me, io ti lascio di qua, più o meno il mio video precedente. Di qua, comunque, sulla destra, no, sulla sinistra, il mio video precedente. Sulla destra una mia playlista. E qua, al centro, in basso, il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video vi vogliate, va bene? Dai che si è fatta ora, si è fatta ora, si è fatta ora, buonanotte, 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 buonanotte. Un bacio. E noi ci vediamo al prossimo video, va bene? Buonanotte, ragazzi. Buonanotte, buonanotte. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte, buonanotte. Buonanotte, buonanotte, buonanotte. Buonanotte, buonanotte.